26 gennaio 1998 muore a roma a 64 anni il pittore mario schifano esponente di spicco della pop art italiana è da molti considerato l'erede di andy warrell i suoi lavori sono in genere monocromi cioè contengono uno o al massimo due colori applicati su una carta da imballaggio poi incollata a tela come warrell schifano inserisce prepotentemente nella sua arte le suggestioni che gli provengono dai mass media la sua modernità sta nell'adattare la pittura al carattere quantitativo dell'epoca sperimentando e contaminando i linguaggi anche nella vita è un cacciatore di esperienze forti e decessi dagli arresti per droga all'internamento in manicomio fino al tentativo di suicidio